Scusi buon uomo, mi sa dire l'ora per favore? E 5 e 35 Ma è sicuro? E 36 Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino, eh? No Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Allora Le 7 e un quarto Ehi, ma sono le 7 e un quarto spaccato, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo Sotto c'è il campanile, vedi? Io vediamo, 7 e un quarto